Siamo felici di essere ovviamente nel Salento perché poi noi ci veniamo particolarmente alla nostra terra anche se il Salento onestamente non è più quello di una volta voi lo conoscevate il Salento come era una volta, come si presentava il paesaggio, il paesaggio grande, una trasformazione io ma non so quanti di loro effettivamente siano salentini quanti salentini? alzate la mano! tutti ma tutti salentini? ma turisti a legge? ma turisti mica vedono le cicci rettri no hai ragione quindi se siete salentini sicuramente conoscete le vecchie distese di tabacco ahhh fatemi sicuramente tutti alla manicatura guarda io lavoravo alla manicatura però è stata chiusa dove si è stata diciamo comuni ma io vorrei dire addirittura se conoscono i nomi delle foglie ma io poi sono appassionata la foglia quella grande quando ha fatto l'esame per entrare in manifattura le avranno detto no? che cos'è? ecco 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 il tabacco le tipologie di tabacco la foglia grande come si chiama? si chiama? merze cornia merze cornia no vabbè però a parte gli scherzi effettivamente quello faceva parte del nostro paesaggio salentino adesso invece al posto di queste belle distese di tabacco troviamo le distese di pannelli solari no? parliamone no 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 guarda io trovo anche l'utilità del pannello solare si va bene ho capito l'utilità del pannello solare in che senso? io in campagna mi ho messo tutti i pannelli solari e faccio tutte le cucuzze siccate i pomodori siccati e le malanzane siccate e tutte queste cose ma scusa ma ti vengono bene? si 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 guarda che mantiene tutto l'inverno? certo come sicca la figa lo pannello solare metti la mandorla chiudi si certo va bene però dai effettivamente comunque forse i pannelli solari possiamo pure accettarli il sole ce l'abbiamo la risorsa però voglio dire abbiamo pure il vento e non è che poi teniamo tutte le risorse noi e vediamo sti mostri ci facciamo delle bestie ma poi questi mostri che c'erano che sono? le paleoliche comunque sono questi mostri le paleoliche si ne ma anche quella c'era un'utilità io ho trovato ci sono i pro e i contro io ho trovato anche per esempio solo nel periodo natalizio eh perché io ho praticamente una pala proprio piantata in camera da letto proprio una pala ma quella era voluta pure la badante di mia socia dalla pala in camera da letto ma non era la pala eolica non è la pala eolica sto parlando della pala eolica sto parlando che ho trovato l'utilizzo insomma a natale io l'addobbo con tutte le stelle fidanzi tutta colorata e vedi che giramento di palle 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 con mai palle che giramento di palle comunque dai e gli ulivi? i nostri cari ulivi che non ci sono più quella è una cosa che ti torce il cuore ogni fiata capace ti dispiace veramente ma ai ulivi c'è stato uno studio proprio certi universitari hanno sudato sette camicie a quale università? di torre suda e praticamente hanno scoperto questi universitari che è colpa nostra perchè cantavamo una canzone quando raccoglievano gli ulivi si era proprio la canzone che il batterio è andato quella che faceva è come gira e come zumpa e balla è come gira la xylella mia ci vorrebbe la xylella ci vorrebbe la xylella è come gira e come zumpa e balla è come gira la xylella mia ci vorrebbe la xylella è come gira la xylella però non c'è più praticamente bisognerà vedere come fa però effettivamente il salento è sulla bocca di tutti per la questione della TAP è vero anche se io guarda ma onestamente non so dov'è la ragione io so che noi dobbiamo sfruttare tutte quante le risorse però non so però io non sento mai le tue campagne no no io sono andata proprio a Melendugno al cacchiere della TAP ho parlato con l'ingegnere della TAP proprio con lui ho detto scusi ingegnere ma cos'è questa TAP e lui mi ha detto ma signora ma cosa vuoi che sia la TAP è un tubicino sottile sottile che passa sottoterra indolore per tutti allora non ti fidare sai per te no non ti fidare perché pure il dottore della coloscopia a me mi aveva detto che era un tubicino indolore o meno o meno o meno o meno dopo questa forse è il caso che io vi ho preparato una sorpresa che forse è meglio per chiudere la sorpresa scusa così diamo già la parola ai nostri colleghi perché diego questa cosa veramente mi fa capire la faccia vabbè ho preparato una sorpresa anzi chiedo al nostro grandissimo tecnico lì a Gianni di mandare ci vuole però la sorpresa come la dice a noi ci siamo un trio di cabaret non è che si ma non lo sappiamo ma non lo sappiamo non è che non lo sappiamo ma non lo sappiamo se lo puoi fare dove vuoi andare a fare dimmi perché stai cantando se dobbiamo fare una barata dimmi perché un don facciamo una figura di te ma io le mette o signore dimmi che mai E non mi lascerai mai, ma dimmi chi sei, e ti dirò chi mai, e signore dimmi che mai, ma a te spicciamola fai, e poi ci illumina l'u signore. Buonasera, buonasera signore, signore. Ma prima di andarlo a presentare andiamo a leggere insieme la rassegna a stanza di questa matita. Il resto del casino che titola si innamorano su Facebook, ma poi scoprono di essere già marito e moglie. Bravi li pampacioni, rivolge in corso, bravi. Ed inoltre ricordiamo il Corriere della Pera che titola Vigili del Fuoco, spengono una camera ardente e utilizzano le pompe funebri. Bravi davvero grandissimi anche Vigili del Fuoco, facciamola una volta che è partito perché ce lo meritano pure loro. Adesso però carissimi amici è il momento di presentare l'ostipe della giollata. Uno piacere, un grande piacere ostipe di avere ostipe da Cellino San Marco, sappiamo lui, Albano Carrici. Felicità, buonasera Lecce, come va, come va, tutto ok, tutto ok, felicità. Vai, vai, tutto in gemme, via. È un piacere di vino fatto a Cellino la felicità e te guardo allo specchio e te sputo in cianuecchio la felicità. È vero? Pure a me mi succede tutte le mattine. Ciao Luca! Sì, grazie Albano, grazie di essere qua con noi, ma dimmi una cosa, caro Albano, ma da quanto visti che non ci siamo tempo, ma dove sei tempo tutto questo stato? Sangue di quella terra. Ma ci hai ben dito, avete capito? Io non ho capito niente, sai? Ripeti! Albano, io ripeto, ma non garantisco sul risultato. Da quanto visti non ci siamo tempo, dove sei tempo tutto questo stato? Hai visto, Albano, non c'è niente da fare, sai? Sempre la solita storia. Io vivo e qui tu sei imbriaca. Sangue di quella terra. No, fermo Albano, fermi, perché io volevo semplicemente chiederti cosa ci bello ti racconti della tua vita. Noi sappiamo che in quel di Cellino San Marco c'hai sempre tantissime attività, Albano. Scorreggiami se sbaglio. E meno male sennò che non sbagli, sennò quando ce ne dovevamo scappare, dovevamo evacuare la piazza, praticamente. Vabbè, che ti devo raccontare, Luca mio? La solita vita faccio. Ecco, quello che vuoi, dai, giù via. La solita vita faccio. La solita vita! Ah, mi parto ogni tanto, non ci posso fare niente, no? Che voce che tengo, ah? Grandissima voce. Lo so che sono bravo, se no mica stavo qua sopra, se no io stavo là e voi stavate qua, no? Alla mezza, la signora è una fan, eh? Grazie. Bravo, bravo. Allora l'altro giorno dicevo, non c'avevo niente da fare, mi ho alzato con calma, no? Eh, a che ora, Albano? Alle quattro e mezza della mattina. Ecco, meno male che la con calma. Con calma, con calma, mica come a voi, con calma. Ho uscito a vendemmiare. Benito. Ho vendemmiato un 500.000 ettari di vigneto. Pesso poco. Ho prodotto un un milione e mezzo di bottiglie, un paio d'ore, giusto per divertirmi. Quindi, a proposito, buonasera a tutti e benvenuti nelle tenute Albano Carrisi, dove la tradizione incontra l'innovazione e nasce la confezione. Telefonate, telefonate subito e prenotate tutto questo ben di Dio che tengo qua dietro sull'ape, eh? Partiamo subito con la prima offerta di oggi. Ma che è da delle vendite, Albano? Sì, sì, allora vi offro un bel vasetto di prumitori scattariciati. Ecco. Gli ho scattariciati proprio io, uno per uno, eh? Proprio lo stompiccio. Fra l'altro la campagna mia, ultimamente, sta una bellezza. Peggio un po'. Non so se lo sai. Sì, mi cresce di tutto, di tutto, proprio cose fantastiche. Sentiamo, sentiamo. Cosa cresce? Tengo di tutto, guarda, le patate tante, le carciofi tanti e le zucchine... Tante. No, le zucchine nella Giuliale che hanno un zappi sono pericolose. Non si sape mai, è meglio evitare, giusto? Comunque, a proposito di prumitori scattariciati, un'altra cosa che io produco, che piace moltissimo ai salentini, lo sai qual è? Eh, qual è, Albano? L'alimento principale, quella cosa che si spunza, cos'è? La? La frisa, bravi. Bravo, la frisa, ecco. Io, fra l'altro, ho risolto il problema, perché a casa lo marito, la ola è desubra, la moglie è desubra, si scannano tutti. Allora, ogni due pacchi di frisa è desubra, uno di cui è desubra, va bene? Così non vi scannate più. Bravo, bravo, bravo. E poi passiamo al prossimo, al prossimo grande lotto, il Nettare degli Dei, ovviamente, il vino delle tenute Albano Carrisi, l'offerta di oggi, Carrisi Diesel, 20 km con un litro, certificati, pure in Cialopaise, lui l'ha assaggiato. Io devo dire, infatti, che l'ho assaggiato, appena l'ho assaggiato il tuo vino, Albano, capito subito che l'ho imbottigliato, subito l'ho capito. E certo, perché è fresco, è buono e sa di salento. No, perché sa di tappo, Albano, sa veramente di tappo. Comunque, padre, è partito a ravele farlo, a ravele fermare, perché altrimenti il vino diventa cero. Non ci vengo più alle parti! Ma non c'è venire, che me frega, Albano. Adesso però è il momento di parlare anche della tua vita privata. Sappiamo che c'è chi entra, chi esce, Romina, Loredana, non si capisce niente, Albano. Fammi chiudere le vendite, telefonate, telefonate, telefonate e ricordate, il bere avrà sempre la meglio sul male, parola di Albano. Chiamate, veramente. Chiamate, muovite il numero. Adesso, parliamo della tua vita privata, dicevamo che entra e chi esce, Loredana, Romina, non si capisce niente più a casa tua, Albano. E ci sape, non ne sto capendo niente manco io, pensa che l'altro giorno per capirci qualche cosa ho telefonato direttamente a Barbara D'Urso. Capito, la sapete tutto. Pure i fatti voci, attenti. E mi ha spiegato lei, c'è un grande scoop. Eh, sentiamo sto scoop, dai. Lo scoop è questo. Loredana è tornata a dormire sotto al mio tetto. E io sopra la sua tetta, veramente. Abbiamo fatto l'amore, aspetta tre gemelli. Una forza della natura sono, sangue di quella terra. Grande, Albano. Grandissima forza della natura. Bravo tutto, canti bene. Adesso però sinceramente ci hai rotto un po' di pampagioni, Albano. Vogliamo ascoltare la tua voce così come la conosciamo? Quale canzone ci fa ascoltare? Dai, tu qui. Sì, allora, mentre venivo qua, no? Stavo sull'Acellino Lecce con l'ape. E mi stavo ripassando tutte le canzoni. Ho detto, quale gli canto agli amici di Lecce per la festa di Santo Ronzo? Sentiamo, quale gli canto? Quella di Sanremo 2011. Benissimo, Albano. Bravo, non se ricorda nessuno. Non c'è problema. Ma non me la ricordo manco io. Ci se la ricorda? Che d'altra parte, a che canto io, aveva almeno 50-60 anni, eh? Voi facevate ancora Pio Pio come il Pulcino. Io già vincevo i dischi di Platino, vincevo, sangue di quella terra. Comunque me la ricordo. Ah, ecco, te la ricordo. Allora, ascoltiamo come faceva. Dai, giù qui. Facevo così. Amanda è libera come una rondine. Amanda è un angelo di un volo a metà. Bravo, Albano. Bravo, bravo. Albano, 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 Albano. Bravi, bravo. Fermo, Albano. Fermo, ha fatto il buco a terra. Bravo. Stavo stumpando l'uva. Ecco. Vogliamo una canzone, anzi pure più di una, ma fatta bene. Dai, davvero. Ma posso dire se li hai rotti veramente, Albano. Davvero te lo diciamo. Dai. Grazie. Allora, facciamo così. Per l'occasione non ve ne canto una, non ve ne canto due, ve ne canto tre. Bravo. Un prodotto tipico, no? Quando metti insieme le canzoni, come si dice? Faci l'u-me? L'u-me? Allora, dentro ci sono questi tre nuovi singoli, nuovissimi, eh? Nuovissimi, inediti, Albano. Che si intitolano Ci sarà, felicità e nel sole. Sempre qui. No, sono inediti, infatti. Qui te degno e qui te faccio. E ti ascoltiamo lo stesso, perché noi ti vogliamo bene. Albano Carresi, vai regia, vai, via, maestro, via, via il TG1. Vai, via. Mani a tempo con l'arco. Bravo, Albano, ferma, ferma, regia, ferma. Bravo, Albano, ferma. Bravissimo tutto, ma insomma, non abbiamo capito una cosa, Albano. Che cosa è successo a sta campanella che si muove sempre, Albano? Ah, me ne siete accorti? È certo che ce ne siamo accorti, spiegacelo, dai. Me lo chiedono tutti. Ma non c'è già niente alla musica, eh? No, mai sia vi pensate. È una storia vecchia. Era l'estate del 74 e stavo a Cisaria, no? Sopra la spiaggia, sopra il mare. Eh, così. E mi avevo portato il materassino. La signora ha capito, bravo. E gonfia, 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 lo materassino si è gonfiato e la gamba è rimasta così. Grazie di cuore. Grazie, Albano, grazie. Adesso però, carissimo, Albano, prima di salutarci e di dirci, insomma, sostanzialmente a rivederci all'anno scorso, vogliamo ovviamente ricordare un altro appuntamento all'interno di questa puntata perché c'è l'angolo relax, l'angolo bellezza, infatti là abbiamo tre signore prontissime, sono davvero prontissime, già pronte per averle qui sul palco perché ci dovranno spiegare qualcosa che riguarda appunto il benessere in collaborazione anche col Comune di Rezzi e col Comitato Festa. Lasciamo lo spazio a queste signore. Vai, via. Vai, vai, sono pronte? Arrivederci. No, 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 sono pronte perché non è che siamo pronte noi. Fanno queste cose che poi no, 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 va bene, comunque. C'è il problema. Grazie, grazie. Ho capito cosa mi hanno detto dalla regina e io non so, arrivere, arrivere. Per carità, salutiamo giurato con lo nostro albano, ma noi non eravamo pronte, ma perché guarda veramente, guarda questo Comitato Festa di Santo Ronzo, giusto e fortunato si chiamano addirittura, eppure dico il sindaco, l'uforesio, hanno organizzato una cosa veramente completa di tutto, dice perché noi gli artisti li vogliamo coccolare. Guarda veramente, quando stiamo facendo, hai organizzato un centro benessere a posto per noi, guarda una cosa, io mi sento benissimo. C'è successo, Mollito? Scusate, sono ancora sotto l'effetto della doccia emozionale che ho fatto. La doccia emozionale, sai che non è l'emozione con Maremia? No, non, non, stai tranquilla, però io sono contenta perché mi hanno fatto un massaggio con Maremia. Ah, sì, sì, perché non fanno più quei massaggi di una volta, prima si usavano quei massaggi, cessaccio all'aloe vera, brava, 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 no, a me me l'hanno fatto al cioccolato fondente, ma pure l'altra volta, al cioccolato fondente, l'avevo fatto, l'avevi già fatto un'altra volta, infatti era andata da mio marito subito, quello appena mi ha sentito mi ha fatto, ehi, mustazzolo mio, ma ne vedo una mozzata, ma guarda che sono proprio soddisfazione, la mandrina, bello, 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 io pure una volta l'ho fatto all'olio d'oliva, elbe mediterranea, e tutta la pelle proprio idratata, mi ricordo, sono tornata a casa, mio marito mi ha guardato dretta e dretta negli occhi, e mi ha detto, ehi, veta mia, consami una frisetta, comunque, a proposito, tu guarda per far contento tuo marito, invece, fatti, guarda, il coso, lo lifting, quello al vino bianco, ma come ti tira la pelle il vino bianco, ma è una cosa proprio, io il vino bianco ci ho sempre tirato sul luco negli occhi, e invece, guarda, tirati qua tutto quanto, perché come ti tira la pelle il vino bianco, è una cosa, tuo marito rimarrà contentissimo, no, ma guarda, io non c'è bisogno perché fa il procedimento inverso, mio marito, cioè, prima serve tutto il vino bianco, no, e poi mi tira la pelle, guarda, la sentite, no, ognuno ha il marito che si merito, no, 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 ognuno ha il marito che si merita, quella, ma incomincia a parlare male del marito, ma insomma non è possibile, che dobbiamo fare sempre le donne del sud che parlano male dei mariti, no, che voi certe volte sti mariti ti fanno certe sorprese che ti lasciano veramente sterte fatta, proprio una cosa incredibile, a me sapete che mi ha regalato mio marito per i dieci anni di matrimonio, che cosa? Questo bel viaggio in Italia, che voi sapete che io sto per lavoro fuori, no? aspetta è che ti regala i venticinque anni di matrimonio, eh? beh, penso che mi viene a prendere poi, no? penso, 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 penso comunque, i mariti, vu, ne tengono gli altri no, guarda, lasciami stare che tra mariti e suocere veramente acienda a scrivere, no? tu, ma, non ti puoi proprio lamentare, eh? Calarita, tua suocera è un spettacolo dei bestiari Quante suocere, scusa, quante suocere ci sono qua? Vediamo, alzate le mani se devi tenere un coraggio. Ma a te non hai coraggio, no. Allora, le suocere, le socre, allora, infatti c'è la suocera e la socra, dobbiamo distinguere, perché noi abbiamo detto le suocere, ma qua c'è la suocera e la socra. Quante socre, vediamo se... perché le socre sono in genere le mamme dei figli maschi. Dei maschietti. Vuole alzare le mani l'enore. Vuole alzare l'enore. L'enore, guida, guida. L'enore, guida, è di socra, eh. No, non vogliamo mettere... No, no, ma io ce l'ho una perfidissima. Non è vero, guarda che la Rita è uno spettacolo del santo. La Rita, la Rita. Guarda, stamattina è venuta a casa mia e mi ha detto, che cos'è questa novità che ti vuoi separare? Pure se mio figlio ti ha fatto le corna della donna del sud, devi coprire tutto. La Rita, la Rita. No, non esiste, tu devi mantenere la famiglia unita. La Rita, la Rita. Tanto che quando sei andato ho detto, stavolta chiedo l'allunamento alla Sacra Rota. Guarda, è meglio se lo chiedi prima alla sogra Rita. Sì, questa cosa può arrivare. No, no, va bene, però pure queste, no? Ci vedono sempre queste pulizie, queste cose. Sì, è vero, è vero. Sempre l'inaginia. E quello arriva... Io guarda, stavo crepata e schiattata per le pulizie. Io non lo so, qua sicuramente tutte quante le donne mi daranno ragione. Prima che vengano alla festa, se non aveva la casa bella, linda, linda, un essere di casa. È vero, è vero, è vero, è vero. È il problema nostro che ci fissiamo con le cose. Brava. E io non le faccio più. E non hai tempo per fare le altre cose. Ma io non le faccio più, le pulizie, mangio crepata. No. Ma perché non le fate? Fate come me, no? Io uso il robot pulizia. Il robot pulizia? Il robot pulizia, quello tondo? Sì. Così, lo schiacci di sopra e li fa sotto al letto, sotto al tavolo, sotto alla bandina, sotto all'armadio, tutte le parti. E ti tira tutte le cartie? Mamma mia di Dio. Senti, e quanto quanto l'hai pagato questo? Beh, io uno dei primi l'ho pagato sui 3.000 euro. Potene stare tutte le cartie? No, ma io non te lo volvere. 3.000 euro? Assolutamente. Ma poi a te non neanche ti serve, comare. Scusa, tu non c'hai i gemellini che cartonano? Sì, Gigino e Gigetto. E tu li metti una bella tutina antistatica? Se vai agli cinesi, trovi qui le proprie antistatiche antistatiche. E fai andare sotto al tavolo, sotto al divano, sotto al letto e ti diranno tutte le cartie. Non hai risparmiato i 3.000 euro, fessano. Sì, attenta sull'uomo, non li sbattica lo balcone. Vola Gigino e vola Gigetto. Che cosa è vero? Non l'era pensata. E che non è che puoi spendere pure tanti soldi, comare, perché poi effettivamente bisogna pensare pure a se stessa. Ecco perché poi fanno bene questi centri di benessere, perché tu vai là e ti dedichi poco poco alla persona. E' vero, comare mia. Ma tu l'hai fatto io. Ho prenotato un idromassaggio miracoloso, comare. Stavolta non mi riconoscete più. E sì, perché ho fatto la prova costume. Voi l'avete fatta la prova costume? Beh, io l'ho fatta e non mi trase. Maledetto costume, guarda, ogni anno la stessa storia. Ogni anno mi sono prenotato un idromassaggio miracoloso, comare. Dice che è ricompattante, ristrutturante, rimodellante all'acqua... Dell'Urde. Diracoloso, disuncegolosa, non ci capisco. Mamma mia, ma tu pure, comare, però, sapevi che dovevi venire a Lecce, no? Eh, a Porta Rudie, fu tanta bella gentaglia la stava qua, no? Eh, dico, e non ti metti una bella pancetta. Allora, cosa c'è? L'ho comprata, non è arrivata in tempo, eh? Che vi devo dire tutto? Dove l'hai comprata? Questa propria sua mazzunna. Eh, guarda, mi sono comprata una di quelle... Proprio pancetta, guai, guai, guai. Che ti prende tutta la cellulite da pagato. E sale tutto e ti stringe il grasso dei glutei. Ti prende l'adipe della pancia, te lo porta tutto sopra, tu ti metti il vestitino e te zumpalo cogliendo. Che poi è importante pure tenere un bel viso, una bella cosa. Tu, per esempio, la maschera, non la faci, la maschera. Io non me, per esempio, la metto a casa. No, 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 io ho fatto questa qui e tu la metti a casa. Eh, sì, io la metto a casa. Ah, ti sei comprata questa del centro benessere? No. C'è quella dell'uomo ragno. Ma a posto, sai? Sì, anche perché poi, dico, sì, vede, vuoi qualche rughetta, tipo, ah, la faccia e non ci vuoi. No, no, io mi sono comprata proprio una crema che me l'hanno venduta qui al centro benessere che dice che te la spalli tutta qui intorno, tutta qua, tutta, ti toglie dieci anni di dosso, eh. E attenta, sai, che se ti entra nel cervello è finita. Ehi, ma non te la metto, no? Tanto non gli fanno l'applauso. La stai, la stai! Ma sempre ubbidola, eh. Ma che c'entra? Ah, decida. Queste due, madre mia, tu devi essere chiara quando guida te umilia. Ah, sono rughi di espressione, tu che mi dici? Ecco. Sono rughi di espressione, capito? Infatti, vieni, la parentesi tonda, la quadra e la grappa qua. Ma scusa, me ne fai proprio, ma me ne dici proprio, me ne dici. Me ne dici, me ne dici. Ah, mamma mia, intanto, ma vedi come si dimagrisce, bella? Che devi fare pure... Ah, sì, sì, a parte che ho fatto la liposuzione. Hai fatto, hai fatto la liposuzione. E allora? Eh, ma non ti hanno liposucchiato niente, però. Dici, ma che stai c'è la liposuzione? Ma questa è, mamma mia. Eh, dico, direi facile la liposuzione, però pure... Eh, devi vedere pure che mangi, mamma mia. Non ci fissiamo. Oh, l'alimentazione è importante. Allora, le creme non ci credo più. Sono passata la liposuzione apposta perché ho preso tutti i tipi di creme, ma... Eh, creme drenanti, lo capisco, c'è si stessa. Creme drenanti, allora... Creme drenanti. L'ho provato tutti, creme drenanti, creme d'eredo, creme de costi. Di tutti i tipi che poi sono care, costano 60 euro a seduta. Cosa la sacci? Ma tu falli in piedi, no? No, no. Io pure... Ma li usi, li, qua. E massaggiate. Comare, ti ho detto che l'alimentazione è importante. Ah, lo so, lo so, lo so, comare. Tu la dieta zona l'hai fatta? La dieta qui già dell'americano? La dieta... La dieta dell'americano là un po'? No, non fai l'è. Dell'americano, dell'Uberry Seals. Ah? L'Uberry Seals. Mamma, come lo mastichi bene l'inglese, comare mia. Sì, lo problema è quando lo inghiutte. Insomma, sta americano, dice che devi mangiare soprattutto proteine, belli muscoli, delle cose. Ah, la dieta zona! Ho capito qual è la dieta zona, no? No, con la dieta zona fai la fame, comare. Che fai la fame? Cosa è una cosa che non usci? La dieta zona fa la fame. Cioè, sai tu, dieta zona, non ti serve proprio. La dieta zona fa la fame. Vorrei sapere come fai a sapere. La dieta zona fa la fame, perché lo disgraziamo di mio marito, c'è comprato una zona edificabile di 300.000 euro e sta facendo la fame con la patavo. Senti, qua devi mangiare le cose giuste. Tu, per esempio, la frutta la mangi? Guarda, io intanto, ultimamente mi sono messa a dieta e mangio solo verdure. Verdure, verdure e verdure. È importante. Comunque, comare, ricordati che anche la vacca è vegetariana. Vedi quanto è? La frutta, la frutta la mangi? Ah, sì? Che frutta devo mangiare? Che frutta devi mangiare, comare? Fai come me, no? Lupini, pinoli, pastiglie, pistacchi. Quella frutta che devi mangiare? Quella frutta secca. E fa ingrassare! No, fa ingrassare, che mi dovrei disidratare per quanto è secca. E non bevo neanche, ma i si avassi confia, niente acqua, solo frutta secca di un certo tipo. E frutta fresca mangi. Frutta fresca mangi. E dici, cammini, la grazia dello signore? No, no, poi è proprio stagione di poter raccolare tante delle belle figaline dietro al grattino. Sì, sì. No, l'altro giorno mi sono raccolta due secchi, mi sono raccolta, belle madure mature, e mesi, nettavo e mangiavo, nettavo e calavo, nettavo e carcavo. La verità mi sono dovuta sforzare pure per finirmela, no? Ti dico la verità. La verità con quelle ti sforzi pure dopo. Ma sono fatti noi. Intanto, sta, ti dico, due secchi di figalindie da sola mi sono mangiata. Due secchi di figalindie? Due secchi di figalindie. E ricacchi? Alla stagione poi, no? A settembre poi, no? Alla vaniglia, sì. Alla vaniglia. Sì, la vaniglia. Eh, va bene. Alla vaniglia, poi. Sì, sì, sì. Comunque, se proprio volete che vi dicono oh, sì, mi sentono pure tutti questi cristiani. Secondo me non ci sono proprio metodi per dimagrire proprio canonici che gli dici ma faici sta cosa o no? Insomma, tutti stiamo sempre a fare bene. È vero, è vero. Non ci sono metodi per dimagrire e basta. Comunque, io l'unico metodo per dimagrire io lo conosco. Quale sarebbe, scusa? L'unico metodo per dimagrire è farsi un personal trainer. Ah? Farsi un personal trainer. No, ne sai io me ne sono fatta quattro è ancora grossa stop. Eh, non sta a mussare allora, cammina. Ma queste cose si diciano ma faicici. Ma non puoi dire queste cose non puoi. Ma veramente non mi scende proprio ma non è possibile perché tutto quello che vuoi però dico lo spettacolo è una cosa però poi che ti mettono al catering alla cosa dico fino a un certo punto però le chiamo in cicerietria però è vero. Il comitato a festa doveva pure dire che alla fine dovevamo ridurci a fare le pitture vabbè con mare mia che poi pitture rustici pietre quindi significa dice voi le pr siete e allora pitture rustici una cosa all'altro comunque fatto sta io non me l'aspettavo che dovevamo pensare alla cucina anche perché io su questi tacchi sinceramente stavo scomoda stasera che poi poi addirittura da 12 no 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 perché poi dico arriva lo responsabile di una cosa venite a visitare le cucine così vi fate un'idea arriva lo comitato venite a visitare le cucine così vi fate un'idea arrivano foresti venite a visitare le cucine che vi fate un'idea ci ho capito ma io sto struttando no questa è la famosa cucina rivisitata è capito ah che bravosa non l'era capita non l'era capita non l'era capita perché guarda mi ha detto sai ti devi occupare tu del buffet certo certo tu ti sei occupata del buffet ma non c'è problema perché io ho portato un cartato quello di mia nonna e lo portare al buffet certo non poco tarlato scusa in cucina sì 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 ce lo teniamo per quello guarda perché i vermi sono una cosa importantissima in cucina adesso una novità proprio sì 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 sono praticamente quelle che si chiamano le proteine del futuro capito sono proprio una cosa importante no io preferisco le proteine del passato tipo no e invece guarda ti dico la verità io ho assaggiato per esempio il formaggio buono buonissimo che poi insomma come si dice si dice pure degustibus non disputandum est no allora perché si dice infatti io pure come lo gusto va sputandum proprio non disputandum est intendevo maestro come stai il marito ci sputa il marito a proposito a proposito di marito l'avete visto il mio marito no come sei dimagrito dimagrito mamma mia prima pesava 120 chili ma oddio forse diviso si dimagrito si diviso in due peserà 60 chili mamma mia guarda io lui Cristiano si face tanti dei bisagrileggi veramente guarda lei non sa come va a fare lui Cristiano perché io lo vedo distrutto lo vedo no io il mio lo vedo di lardo va bene io comunque non vedo l'ora di andare a casa ti dico la verità perché se mi farei ricetta facimola io non sa tu marito la ricetta ce l'ho io no 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 io tuo marito aspetta andate lo mantieni all'ambersa scusi adesso fate le vostre volete perché è proprio sana sano ma volusamente lo crempio non è possibile ma io non ti mangiare la sana ma signore ma signore facita tu tuo marito piuttosto ti devi dire devi mangiare sano perché tuo marito non mangia sano mio marito sempre gli lo dico mio marito mangia sano che gli dico prima con ghiotti ma sticano un po' tutto sano tutto sano tutto sano proprio integro proprio ma mia integro sono sano pure di questa ricetta vediamo questa ricetta allora ci sono pomodorini pirotecnici col basilico della val di notte pomodorini pirotecnici col basilico della val di notte eccetera li pimpitori schiattariciati e li pimpitori schiattariciati e poi che c'entra ma devi avere pure un certo no vabbè che c'entra il basilico con i pomodorini schiattariciati infatti dice il basilico della val di nonno non lo metti poi dice fate riposare la carne fate riposare la carne e rotolatela più volte nella sfoglia e alla fine la mantecate su un letto di avocado certo tu hai capito no? c'è sì pericolosa quelle cose hai capito tutto no? della ricetta sì ho capito che state tagliando di quell'avocado con la mante dice che quella dice che rotola e si spoglia rotola e si spoglia e alla fine la mante cade sul letto dell'avocado però non è che dobbiamo fare i pettegolezzi noi scusa che c'entriamo con i pettegolezzi infatti per favore basta tagliare basta tagliare per favore io ieri sera mi sono fatta una bella tagliata con mare con la grana no col coltello del pane ehi va bene dai il wedding planner poi ha detto che bisogna fare il timballo di patate no 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 quello l'ho scritto io là sopra il timballo di patate timballo di patate che li dico qua se lo wedding planner timballo le patate teleportica non è che potremmo fare di tutto lui no e c'è questa fatta bene non le patate teleportica si 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 mi ha detto che fai le carote a julienne si vabbè allora a julienne si 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 Ecco, che vi usano moltissimo queste spezie, noi, c'è saccio lo sesamo, ecco, per esempio, con lo sesamo io però ho crepato e schiattato. Perché? Perché non riesco ad aprire il boccaccio, vedi? Ma è facilissimo. Faccio il boccaccio. Io dico apri di sesamo. Sacre. Oh, mamma mia. La curcuma la conosci? Mio marito va a pazzo per la curcuma. Eccino ferma. Quello, guarda, figurati, prima di andare a letto, se vi ha lo latte, pure nel latte si mette la curcuma e fa sicurca. Guarda, veramente, è una cosa incredissima. No, 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 pure mio marito è proprio quello del tuo. Ma si sazia di curcuma? Guardate, lui, mio marito è lo stesso, benchiamo in curcuma. Non face nienti, nienti. Nienti. Mi dico sparecchia meglio, no? Vabbè, comunque c'è già tanta gente, guarda, dietro le cucine, io non sopporto. Non sopporto dietro le cucine. No, vabbè, poi ognuno si sogna una cosa, eh, pure. No, sono arrivate due suore, quelle con l'abito beige, però hanno un po' più... Le campuccine? No, più scuro. Le espressine? Brava. Insomma, sono arrivate due suore e mi hanno detto, orate per noi. E io gli dissi, sorella, spicole per tutti, eh. Che bene, no, ma... Che sono... Che parla qui, la rega a tutti quanti. No, no, anche perché io non vedo l'ora di andarmelo a casa. No, no, però a proposito di sorelle, c'era la madre superiore che ha fatto quel dolce, quella specie di coso al limone, quello per la carne e il pesce, aspetta. Ah, sì, 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 sì. La superiora? La superiora, come si chiama? Superiore. La superiora sorbetta. Non sa chiamare, una capace, un gelatino al limone. Per favore, guarda, allora, io ti stavo dicendo, non vedo l'ora di andare a casa, perché mio marito, quello, non è capace di fare niente. Io se non li cucino, se non li faccio le cose, guarda, no, no, no. No, guarda, mio marito è uguale, guarda, eh. Ieri sera, però, a rientra dal calcetto, l'ho fatto impazzire. E cioè? Che gli hai fatto? Non gli ho cucinato. No, ti stavo dicendo invece che mio marito, proprio come a te, come un marito, non sopporta le cose, far sargli giù le cose, niente, non riesce. Tanto figurati che io, prima di venire qua, gli ho lasciato sul fornello del gas, la piastra con la fettina di capo collo sopra, guarda, gli ho lasciato pure il gas aperto, basta che accende e non vi torna. Basta che accende e salta la casa, se non stai un capicollo. Ma se, c'entra questa cosa. Basta la luce. Tu fai le tue cose fresche a tuo marito, no? Oh, mamma mia. Non è una bella cosa fresca, non ve la sei fare a tuo marito. Ma, ma, tu hai spaghetti veloci veloci. Tu non vi cucini, ma è una cosa veloce? Che faccio? Su due piedi? No. A casa mia siamo tutti educati e si mangia seduti. Quale su due piedi? Tutti a tavola. E poi, piatti freddi, tu non puoi fare. Dico, una cosa veloce. Tu non ho prosciutto e mozzarella, una caprese, una cosa. Piato freddo, guarda, una volta. Non è per queste cose, mio marito. Una volta gli ho fatto quello perché dovevo andare, appunto, in gita e gli ho preparato proprio prosciutto e mozzarella, no? Eh, ma qui non mi hanno tutto all'aria. Eh, va bene, ma significa che a te proprio non lo usci. Scusami, che tieni proprio il prosciutto sugli occhi, scusami. E' una mozzarella in ciare ricche, mi dico. Scusa, ma tu, tua suocera, la vita, perciò la tieni? E non vai a mangi la vita? Ah, guarda, lei non mi invita mai. Mi ha detto solo domani, caso stranissimo, sarà che sa che sono sola. E mi ha detto, vieni a mangiare, che ti faccio tutto il menù, quella che mi piace cucinare. Ha detto che domani mi fa tutto a base di vongole. Mi ha detto che fa vongole crude come antipasto, poi fa linguine alle vongole, un sotè di vongole e si è sognata pure un dolce alle vongole. Sì, ne guarda, le vongole stanno andando. Sì, stanno andando a male le cucine a te. Mamma mia, comunque, tua suocera piuttosto, come stai? E io, mia suocera, mia suocera è vive vegetariana. Questa le saluta. Viva e vegeta, si dice, viva vegetariana. Vegetariana, la cucina è quasi normale. Anche poi non ho mai capito la differenza tra vegetariana e vegana. Non hai capito la differenza tra cucina vegetariana e vegana? Ma vedi che ti manca proprio la bici della cucina a dieta. Oh, mamma mia, ti manca la bici della cucina. Veramente, questa cosa, fatela dire. E come, non ho capito. La cucina, guarda che io in cucina, so tutto dall'H alla Z. ma infatti, ti manca di G, F, G, 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 G Quando tu, per rispetto agli animali, non mangi le cose degli animali, non mangi la carne, lo pesce, non mangi soltanto verdura, cose eccetera. Vegana, tu c'hai tanto del rispetto per gli animali, non solo non mangi gli animali, ma non mangi neanche i derivati degli animali. Quindi per esempio c'è saccio, il latte, le uova, le uova, per esempio invece le puoi mangiare, vedi? Però, però, qual è la condizione qua nonna, che ti mangi le uova? Che devono essere di galline che sono state, per esempio, c'è saccio nell'aglia, con paparicia, non ho poco, con di gallina, ehi cattina mia, come stai? Ehi cattina mia, brava, proprio così, come siamo oggi cattina mia, insomma che siano di galline felici, hai capito? Ma io galline felici, quando fanno l'uovo non l'ho mai visto. Oh, meno, meno, meno. Ehi comare, pure tu dal dottore stamattina? Ma lei mi ha trovato subito parcheggio. Hai trovato parcheggio? Sì. Hai trovato parcheggio? Dove hai parcheggiato, scusa? Qui di fronte. Comunque di fronte. Quello è il parcheggio rosa. Eh, per le donne in attesa. Ah, perché tocca a me? No. Ora, posta, posta in attesa. Buongiorno. 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 Chi è l'ultimo? Tu. Tu. Io? Come si è tra di voi? Allora entro io. Come sarebbe, scusa? Beh, a dire gli ultimi che saranno insieme. Allora. 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 Mamma mia. Sempre al dottore ci si ritrova, eh? Eh? Mamma mia. Bisogna fare qua, bisogna fare là, bisogna fare le analisi. Io, io, io sono venuta perché mi devo cancellare il dottor Commare mia. Eh, vedi, vedi, vedi. Che ti devi fare? Eh, mi ha detto di farmi. Prima, prima il polistirone. Ehi, Commare, non lo trascurare, sai? Che non è quella cosa leggera, leggera che sembra, eh? A me adesso me l'hanno controllato il polistirolo, eh? Me l'hanno trovato espanso, me l'hanno trovato. Cassata. Eh, mi ha detto pure di farmi... Eh, la sitera mia. La sitera tua. Scusa, le analisi sono mie, dice, controllo la sitera tua. No, no, capitato. Questa è un'analisi che serve proprio a controllare la siccarezza delle ghiandole sudorine, no? Ah, allora solo d'estate la fanno, cammino. Ma che stai dicendo? No, 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 proprio, no. Anzi, d'inverno la fanno. E statevi attenti voi quando andate alla Svizzera, eh? Scusa, tu non hai sentito mai quando dicono sulla neve morti siterati. Quelli significa che c'hanno la sitera mia proprio altissima. Ma cosa? Ma mia, ma mia, ma mia. Bisogna farli controlli, bisogna farli. A me sapete come me li hanno trovati le piastrelline? No, ma. Come? A terra, proprio, no, non lo devo stare là. Oh, ma mio, guarda. Stai, guarda. Eh, sì, a me mi ha detto pure di farmi i raggi X. Eh, vedi? Che ti bastano a te i raggi X? Per come ti sei ingrassata? Minimo, minimo, devi fare XL. Se no XXL, come? Oh, vero, vero. Ma come fai, sai? Perché non lo hanno fatto. Mi ha detto anche di farmi quelle altre due analisette, quelle che poi non me le ricordo mai. Ah, quelle che se fai una l'alcio non la paghi? La festa e la tassa. E così mi ha detto quello della ASL stamattina. Ha detto, signora, perché non vuoi pagare? Tu stai facendo la festa per non pagare la tassa? O meno. Vabbè, tu la festa la fai sempre. Mamma mia, guarda, è vero comunque, come dice il signore del pane. E se te ne usavano? No, non se te ne usavano. Non l'ha saputi mai, le proverbi, Messia, sai, non ti preoccupare. State tranquilla tanto qua e mostrare. Più tosto, ehi, sei andata tu a vedere quella cosa dell'ufega, tu già hai... Sì, 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 ho trovato una dottoressa che pare che sia brava, eh? Questa qua dell'ASL proprio, sì, sì, sì. Ah, quella dell'ASL? Sì. Quella orientale? Sì, la giapponese, italiana. Sì, 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 signora. Me? Niente, come sono entrata la verità mi ha detto guardi, signora, non si preoccupi perché lei ha un colorito giallo bellissimo. Vedi? Hai capito qual è, no? No. Quella è la dottoressa giapponese, la dottoressa Mesaka. Ah, Mesaka Momori. Vieni, bravissima. Sì, bravissima. No, ma è brava, brava. È brava perché voi vuol dire pure i dottori, no? Eh, dobbiamo pure sapere le cose, come stanno. E non è facile manco fare il dottore. Eh, 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 scusa. Guarda che poi non è tanto facile una cosa. Tu vai in vacanza se tieni un marito cessaccio. Mio marito, per esempio, che è fenologo. Tu lo sai che io non mi posso fare una vacanza. Eh, perché? Eh, no. Perché stiamo, per esempio, cessaccio. No, sulla spiaggia è una cosa. Tutte quante rimane questo pareo. No, scusa, dottore, non mi vedi poco poco li capillari? No, dottore, non è che poco poco bevi di vene? È una cosa all'occhio, sempre qua tu. Oh, una cosa. È vero, è vero. Io proprio sto crepata schiattata, eh. Ma io che ti devo dire? Che? Che fai tu? Il mio marito è ginecologo. E perché? No, no, tu sai. Vabbè, tu allo Torino sei andata poi? Che il giorno mi ha detto che dovevi andare allo Torino. Sì, sono andata allo Torino. Eh, sì, sì, sì. No, bravo pure lui, anche se mi ha dato una pastiglia tanta. Che ha detto, mamma mia, io non riesco a mandarla giù sta pastiglia. Perché come la mandavo giù, tutto, non riuscivo. Sono andata di nuovo da luglio e ha detto, scusa, vedi se mi cambi medicina qua che io ho? Eh, dice signora che la stai facendo lunga. E lui pure ha detto, guarda, questa così si prende. Se l'è messa in bocca e pure lui poco poco, no, come se... E poi invece lo Torino l'ha ringogliata. Ma poi quello è bravissimo. Quello non era lo stesso di tuo figlio, mi sembra? Ah, quello di tuo figlio. No? Sì, io l'altro sono andata, no? No, quello è bravissimo. Ah, mamma mia, quello è bravissimo. No, bravissimo. Io sono andata una volta ma proprio piena di paura perché mio figlio si era, mamma mia, proprio, mi aveva mangiato proprio, mamma mia, si era ingogliato in 20 centesimi. Mamma, sono andata al dottore, ho detto, mamma mia, dottore mio, guarda, mio figlio si è ingogliato in 20 centesimi. E lui mi ha detto, eh signora, in Italia si sono mangiati miliardi e stanno tutti bene. È vero. E della commare Antonia avete sentito, no? Che cosa? Mamma mia. Ah, il dottore gli aveva dato sei mesi di vita, gli aveva dato. No? E no, poi lei non aveva da pagare, eh. E il dottore gli ha dato sei mesi al giorno. Stacco tutto, mamma. Eh, sì, sì, io non ho capito come è andata a finire la storia invece di quello zio tuo, che avete messo 20 giorni per seppellirlo. Ah, lasciami stare, sì, perché lui voleva essere cremato, la moglie non voleva, una cosa. Tra l'altro ci abbiamo messo 20 giorni, insomma. E come avete fatto? Abbiamo fatto parzialmente il cremato. Ma tu sei, tu sei, mamma mia, proprio sti gargarismi nella mancia, sti borgogli, borgogli proprio che c'hai, mamma mia. No, guarda, io devo andare, eh, io devo andare, eh, devo sbrigarmi, ora entro io al dottore, eh, che devo andare al cimitero. Che alle 11, no, 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 devo risumare mio nonno, no? Alle 11 deve fare la TAC. Che cazzo piglia o tardi? C'è Cristiano. Non è facile fare il dottore. E ci sono dottori che veramente appena ti vedono, già subito si accorgono, no? Appena chassi veramente, cioè ti guardano, già l'occhio e capisci, già negli cristiani, già lo problema che tieni, no? Io sono andata, per esempio, allo psicologo, eh, no? E lui mi ha accortato subito, appena mi ha accortato la verità. Ha capito lo cristiano, no? Non so perché ti devo cominciare a tornare. No, ne capito subito, ma ha accortato. Ah, ecco, non lo faccio. E ha capito, ha detto, signora mia, quasi, no? Ma che cosa? Quasi, no? Che l'avevo proprio così provata? Ma, o meno subito ha capito, quando mi ha guardata, ho già detto, guardi dottore mio, a casa, mio marito, mio figlio, mia suocera e la cognata, mi trattano come un tappetino. E qui Lucetta disse? Signora, lei si deve scuotere. Va bene. Sì, ma... Va bene. No, 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 sono bravi. Certo, cari a volte, eh. No, ne che poi, ehi, io sono contenta, perché poi, come si dice, mensa sana. È mensa malata. Io sono andata da un dottore, quando mi sono seduta, insomma, due minuti sono stata lì dentro, e mi ha chiesto 200 euro. No, non puoi, non puoi andare, no, è dottore. Eh, mamma mia, che cosa? Guardala, eh. Ma guarda la meritocrazia, io pure non sai, c'è bene. Ma, insomma, ma tu sai i dottori quanto studiano? Anni, 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 anni di studio. Ha studiato un turistiano con un serigliato di 200 euro. È colpa mia, la sera ciuccia alla scuola. Non è lo scusate. Ma c'è la ragione, ma dai. Ehi, sei andata poi per il problema dei piedi? Sono andata, sono andata. Sono andata allo specialista proprio, la verità, l'ottoressa mi ha mandato proprio alla specialista. Ah. Sì, 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 la specialista dei piedi. Ah, eh, aspetta, la, la, il pediatra. Dai. Pecca pediatra, se dice specialista dei piedi, ti è basta che si entri i pedi, ah, già, già, pensi, ma ti dicono i piedi. Ah, meraviglia, pedofilo, se dice. Ma scusa, ma che c'entra il pedofilo che è lo specialista del piede del bambino, scusa. Alla fine, no, 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 sono andata perché io proprio in barcollo, no? Eh, che medicina ti ha detto? No, no, niente medicina, mi ha detto moto, moto, moto. Moto delle guine grosse. ehi, momo, tu mi disse, fanno i case, fanno a duo, istessonna, ci staccemos una macchina, un motoscafo, allora si si. No, 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 ma tu mi disse, mo tu sia, anche perché questa veramente è una specialista, sai? Ah, sì. No, questa è la sorella della dottoressa Masaka. Ah, hai capito tu, no? Quindi questa pure è Masaka. Sì, 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 hai capito, no? Masaka mo cati. Ma è bravissima pure lei, europeo e di gruppo dei giarboni di carne. E vabbè, dobbiamo fare un po' di prevenzione comunque, perché la prima cosa è la prevenzione nella salute. Io per esempio mi ha detto il dottore di fumare 10 sigarette al giorno, ma sto peggio. Ah, non puoi, prima quante fumavi? 10 su tante. Non fumavo proprio. Comunque la prevenzione è importantissima, sai, inamo proprio. E qui da noi non la sanno fare, non la sanno fare. Al nord è tutto diverso, forse se c'è qualche turista del nord, qua mi vuol dire che gli ospedali di sopra sono completamente diversi. Perché guarda, io sono andata dallo specialista per la prevenzione al seno, no? Eh, ma qui da noi si fanno prevenzione, ma non come quella di Milano. No, ma io scusa, che fanno Milano? Ho trovato la giornata mondiale della prevenzione, ehi, ma come sono uscita dal treno e ho preso la metropolitana, tanto no mi sento d'andare a tutte le parti. Forse era la giornata mondiale proprio dei sti dottori, dei sti palpeggiatori, sì, 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 sì. Ehi, ma tutti, eh, bravi tutti, veramente. Certo, c'era pure qualcuno di quelli studenti alle prime armi, no? Uh, sì, sì. Tanto che uno mi ha messo la mano qua. Mi ha detto, no, bello mio, gli ho spiegato io a lui, vedi? Mi ha detto, questa è la ghiandola culinaria, questa è la ghiandola mammaria. No, 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 e poi è importante, l'automalpazione è importantissima, questa cosa, parentesi, noi la diciamo sul serio, perché noi siamo, per fortuna, testimonial di una campagna per la prevenzione al seno, anche insieme al dottor Luigi, manca questa cosa. Ehm, mi raccomando, donne, palpeggiatevi, palpeggiatevi, ma sono una goccia, ma se è possibile, fatevi palpeggiare, perché non sappiamo mai come ci va, lo signore non ci chiuda, però facciamolo sempre, mi raccomando. Però è importante, pure per i maschi, bravo, pure per i maschi. Oh, per i maschi, sì, quando gliel'ha detto mia marita, gliel'ha detto, guarda che importante, come gliel'ha detto, è importante l'automalpazione. Ce la faccio da quando avevo 14 anni. Infatti, si sta operando alla cataratta, secondo occhio. Oh, mena, senti, ma piuttosto tu come stai? Dico, perché stai qua? Io sto bene. Tu stai qua per chi, allora? No, per Mimino mio marito, no? Che è successo a Mimino? No, Mimino mio marito, ve lo ricordate? Mimino mio marito. Mimino tuo marito, Mimino tuo marito, un fiore. Un fiore, un fiore, io me lo ricordo Mimino tuo marito, proprio il gioco. Un fiore, no? No, invece non è si siede, non è cade, guarda. Non colombo, ma. Guarda, meno male che stiamo lì alla Svizzera, perché lì alla Svizzera non è mica come quell'Italia. Lì alla Svizzera è tutto diverso, guarda. Lì alla Svizzera ci sono certe linee grandi, ma così grandi, che per girarle ci vuole il motorino. Tanto che siamo andati in una di queste linee, che il dottore stava così e ci stava aspettando, no? E ha detto, ma scusa Mimino mio marito, che c'ha? E ha detto, l'ha visitato. Ha detto, signora, Mimino suo marito, c'ha l'ernia inquinata, strozzata. Per questa strozzata è tutto, non ti preoccupare? No, ne lo so. Per lo strozzamento è fesseria, ho già risolto. Gli ho allentato proprio poco il elastico dello slippino, è buon. Ma quello che mi preoccupa è l'inquinamento, perché se comincia a camminare in tutto l'organismo l'inquinamento, gli si allarga di più il buco dell'ozono. E io che strada prendo, scusa? Eh? Non meno. Vabbè, ma scusa, ma la raccolta dell'urine gliela hai fatta? Ma lei mi ha inquinata. E la raccolta gliela fai differenziata? Ma sì, è un'idea, è un'idea. Ma comunque tu invece come... Però, guarda, di Mimino proprio bisogna dire una cosa, che tu puro... Ma Mimino fuma moltissimo, ma fuma moltissimo. Attenta, attenta, che il fumo provoca gravi problemi delle regioni. Lo scrivono pure sul pacchetto. Sì, una volta gli è capitato quello, ho detto vai subito al tabacchino, prendi, cambialo e prendi quello e il fumo uccide, per favore. No, scusa, non ho capito. Senti, ma comunque tu invece come stai? No, ma quando è che si controlla il Mimino? Vabbè, hai fatto già i controlli tu? No, no, si controlla il Mimino, siamo al posto. Sì, ho capito, ma tu le analisi due proprio... Ferro è incontrollato, che giorno ha fatto tutto colesterolo, quello buono, quello cattivo, ma stiamo bene. L'U Mimino ha fatto le cose. E invece tu, dico, il colesterolo tuo? No, no, pure l'ecografia addominale, quella, la pescella, tutta un posto. No, lui, l'U Mimino l'ha fatta. E state bene. Stiamo bene. Ehi, come mare? Le ha fatte l'U Mimino e stiamo bene. Le ha fatte l'U Mimino e stiamo bene. Le ha fatte l'U Mimino e stiamo bene. Ma insomma, non mi spieghi? Le stesse cose mangiamo io l'U Mimino. Non è che... Che le devo fare io? Scusa, secondo me. Certo, adesso sto un po' preoccupata. Perché? Un po' preoccupata perché mi è arrivata una carta proprio dall'U Mimino l'altro giorno che mi dice che devo andare io, personalmente, proprio io, a fare il pappotesto. E ora non so che devo fare, guarda. Stai preoccupata? Sto preoccupata. E poi le fai come sempre, no? Andano, U Mimino! Grazie! E allora, vi state divertendo? Benissimo! Anche perché per noi non è proprio semplicissimo. Noi siamo anche tre donne, siamo tre mamme. Quindi abbiamo lasciato a casa pure lipargoli. In realtà, non lipargoli. Hanno 15 anni. 15 e 16 anni. Quindi siamo tre mamme di ragazzi adolescenti. Potete immaginare... Annaggia! Potete immaginare che mi piace in questo periodo della loro giovinezza. Perché, insomma, poi siamo anche tre mamme moderne che poi si mettono sempre in discussione, no? Alla fine. Cioè, cercano di mettere... La discussione della prima madre. Deve un po' già, non piede, non terra. Sempre a discutere. Sempre. Stamattina gli ho detto svegli, amore mio. E il mattino, allora, in bocca... E lui mi ha detto, mamma, ma io in bocca c'è ancora la Maria di ieri sera. Sì, vabbè, spiccia l'Ave Maria. Se ne conosci prima, non dormi. E poi gli altri te però... Eh! Va bene, va bene. Questo che vuoi dire tu è perché comunque i ragazzi a volte effettivamente ti fanno perdere il senno, eh. Cioè, ti fanno perdere lo senno. E chi dorme più, guarda. E chi dorme più? E chi dorme più lo senno? Per favore, eh. Non voglio dire questo. Voglio dire che il problema di oggi... Mettiamocelo in testa a genitori che siete qui presenti questa sera a Lecce che il problema di oggi è la tecnologia. No, è vero. È vero. Questo è vero. Perché questi ragazzi stanno sempre con queste cose in faccia. È vero. È vero. Perché i denti nostri non c'erano tutte queste cose che ci sono adesso. Quando la mamma scopava per terra e tu combinavi una cosa, tanto da la scopa te la tiravano addosso e ti beccavano subito. Mentre adesso con questa tecnologia tu vanni, stacca la scopelettica, piglia l'ambraccia e tirali la so. Allora te dispiace, eh. No, te dispiace per le rate che devi ancora pagare, dico, no? Non è che ti dispiace perché... Senti, per favore. Ah, a proposito le rate, a proposito, mi ha telefonato la rappresentante della Folletto. Dice che c'è sotto mano una super accessoriata, 1800 euro. Pagabile anche in comodo e rato mensile da 60, è logico, se no io pure la pigliava... Scusa. Con 60 euro mi viene la Filippina. Sì, ma questo è il modello super compatto, salva spazio, però c'è c'entra il logico, è una cosa diversa. La Filippina è tanta di te. Quando se ne va a spaggio zero, eh. Tene ragione, la fine, se ne va. Tene ragione, vado. No, va bene, dai. Però il problema nostro con i figli è che comunque noi dobbiamo anche aggiornarci. Noi siamo donne moderne, e quindi devi andare a leggere i libri di psicologia, di pedagogia dell'età evolutiva, di psicologia dell'età infanzia. Cioè, guarda che prima i libri mi calusavano. Ah, scusami. Non usavano i libri. No. Come non usavano i libri? Mia madre uno a uno me li tirava quelli della libreria. Come non usavano i libri? E quando finivano i libri? Passavano gli oggetti ornamentali. Ho ancora la gondola di Venezia e il ruborio. No, infatti, guarda, il gondoliere sta così, sul lampadario. che aspetta i concorsi. Senti, per favore. Allora, intanto, con i ragazzi di oggi veramente è complicato parlare. Sì. Soprattutto poi quando ci sono quegli argomenti, no? Delicati. 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 E con i ragazzi adolescenti, tre mamme, non è che si sanno poter rapportare, no? Per parlare di certi argomenti delicati. Madonna mia, guarda, con tutto il cuore, è stato e voglio bene, però è difficile. Facciamo intanto un applauso al tecnico che anche lui sicuramente sta... guarda, guarda, fai così. Lumino. No, Lumino. Non sono io? E lei? Eh, ma ti esinti sempre, mi dà uno. Ah, tu sei felice. Prova, prova. Prova, prova, prova. Fanno così, fanno così. Giocalo un po'. Prova con Lumini da parte di voi. Vabbè, giocalo, giocaglielo. Facciamo un applauso fortissimo. Grazie a Gianni e a tutti i tecnici. Che loro poi fanno il lavoro vero, noi poi ci divertiamo. Quindi invece se fanno un matrimonio, tocca smuntare dopo tutto il palco, tutta la cosa. E noi ci riusciamo a casa, no? Te lo metti sul collo, l'antenna ti va direttamente. Perfetto, così? Gianni? Grande Gianni? Stai bene così, stai bene. Stai bellissima. Stai bella. E comunque io stavo dicendo che è difficile rapportarsi a questi ragazzi adolescenti perché ci sono degli argomenti troppo delicati. Ma non è che poi li... No, ma poi si sognano di tutto. Vedi mia figlia, ieri dopo che abbiamo discusso per ore e ore mi ha detto mamma, ma in fondo che vuoi da me? Che le amiche mie già cavalcano. O me no. Mamma mia, sta cosa non si può dire. Ho detto bella mia, qui stanno o mi spici la piscina? Poi l'anno prossimo, se vuoi. Ah, l'anno prossimo se dai lì cavalli. Mamma mia, signore mio. Ma non era meglio quando non funzionava, non mi provo. Sante ci stanno un po'. Mamma mia, signori mie, ma non è così. Guarda che veramente tu gli blocchi la creatività a questi fagnoni. Gli blocchi la creatività? Ma che stai dicendo? Ieri mio figlio il piccolo è venuto e mi ha detto mamma, guarda, che bel disegno che ho fatto sulla parete del salotto. E lui già mi ha visto un po' così, no? E gli ha detto mamma, questo è l'urlo di Munch. E addirittura, e io gli ho detto e questo è l'urlo di mamma, da! Ma se non pigli subito la caldeggina ma lo scancelli, che pigu fessa! Qui trappiare la caldeggina. mia mamma, mia guada! Ma tu guarda, ti guardo e mi sembri tua madre proprio, veramente sai. Mamma mia, ma mi fate immaginare tutte e due quando state a casa, no? Veramente? Ma ci stai, perché poi, voglio dire, è vero pure che prima no, te diane, te diane. Capità, però io il genitorio che mi ricordo che mia madre ha fatto dei sacrifici per comprarmi l'enciclopedia a tre cani che manco, veramente. No, a me due cani, mia. Sì? Due rottweiler, andanti alla scrivania appena t'alzati, diciamo, che funzionavano pure. Facevano sacrifici, però è vero pure cate diane ogni tanto. Però gli volevi bene, sai che alle mamme nostre nonostante arrivasse qualche scappellotto. vabbè, ma c'è da dire che veramente ti saziavano di colpi ogni tanto. Sì. Ah? Ah? Ti saziavano di colpi? Ti saziavano di colpi, c'è che significa ti saziavano di colpi? Te binchiamo le mie mazzate. E ti? Te binchiamo le mie mazzate. Da lei c'è, Ah no, ebbene, non lo stiamo a trezzano sul naviglio. Però li volevi bene, te binchiamo le mie mazzate, ma li volevi bene. Trezzano sul naviglio. Li volevi bene. È logico che li volevi bene. Ha fatto la scoperta dell'acqua d'alga. È logico, perché questo è quando tu sviluppi quella che in psicologia si chiama sindrome di Stoccolma. Praticamente la vittima ama il suo carnefice. Io quella l'ho sviluppata subito, subito, proprio già da bambina. Sì, sì, sì. Perché una fiata mi è binchiava talmente le mazzate che io le dissi mamma, basta Stoccolma, Stoccolma. E qui, è vero, ma mi è binchiava. Stoccolma, mi disse, io stasera fessavo a dormicare. Ah, allora tu hai sviluppato due sindrome, quella di Stoccolma e quella di Stoccarda. allora guarda, se io mi immagino a casa vostra mi sembrano inferno questi piccini, ma insomma ma senza di colpa mai questi pagnoni? Non c'entra il senso di colpa, pure Dante nella Divina Commedia cosa disse e cosa scrisse. scrisse nell'inferno della Divina Commedia. Non di curare di loro ma passa e danni. E noi le picchiamo le mazzate, le picchiamo, capito? Sciati, per favore, sciati. Io mi dissocio, mi dissocio da questa cosa, altro che. E anzi, adesso, mo' vi facciamo entrare proprio in un mondo al femminile. Solo femminile può essere questo mondo perché i ragazzi non si toccano. Questa cosa diciamocela per favore, i ragazzi non si toccano, si toccano soltanto con un fiore, no? Vabbè, non facendo niente. Sicuro i ragazzi si toccano con un fiore. Adesso vi facciamo entrare in un mondo tutto al femminile perché dobbiamo, eccolo qua, bisogna essere amorevoli con i ragazzi, molto, molto amorevoli. Scusate. Pronto? Ehi, bellomino, amore dell'amore. Ciao, bellomino, sto facendo lo spettacolo. Tranquillo, tranquillo, sto facendo lo spettacolo. Così, come non hai fatto il conflitto? Come? Ah? E che sei? E, e, e io non ti avevo, e io non ti avevo detto che dovevi fare conto, ma allora, ma allora, ma allora, ma allora, ma allora non mi senti? Ma te cutto per nanno non mi senti per un mese. Ma allora io, quando te cutto, che ti mando al collegio, allora, festa sta a me piti. Ma allora, guarda quanto è vero come chiamo Anna Rita, guarda quando vengo dei struncolici di mazzate, stufessa, va a sfrigare e farmi dei compiti, ma sto rimbambito, guarda, guarda, che voi come dicono a Milano, torcino minchicetto, quando è minchia dedo, o menaca proprio, ah signore, insomma adesso vi facciamo entrare in un mondo tutto al femminile e io chiedo al nostro tecnico, al nostro fonico, di mandarci la base perché vi facciamo vedere questa sera, proprio qui in diretta, qui a Lecce davanti a voi, quella che potrebbe essere una giornata trascorsa in un corso preparto. Siete pronti? Facciamo entrare quindi le nostre gestanti e cominciamo la nostra lezione di corso preparto ispirata alla filosofia orientale. Oggi training autogeno, per tanto rilassamento, oggi mireremo proprio tutto quanto a rilassare tutti quanti i muscoli. Signora, prego, prego, si accomodi perché oggi faremo una bellissima lezione sul training autogeno e ormai siamo in dirittura d'arrivo, siamo ormai agli ultimi giorni ormai del vostro percorso, prego, prego, si accomodi e insomma dobbiamo anche cominciare a rilassare tutti i muscoli pelvici, tutto quanto, insomma oggi faremo anche vedere un po' alle persone che sono qui presenti quello che poi si farà, no? Quello che è davvero una lezione di corso preparto ispirata alla filosofia orientale soprattutto per il rilassamento, per quello che concerne il rilassamento, eh? Signora mia, signora mia, bella, mamma mia, prego, 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 signora, guarda, no, 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 guarda, sia tranquilla signora perché oggi proprio rilassamento, eh? Oggi, mamma mia, gli otto gerellini si cominciano a fare sentire, eh? No? Maledetto, ma vabbè, sia, e allora signora intanto si deve sedere alla sedia, no? Piano, 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 piano perché siamo agli ultimi sgoccioli, no, lo sgoccioli non lo volevo dire, gli ultimi momenti della cosa, piano signora, piano, eh? Piano perché è delicata la cosa, eh? È delicata. ecco, brava la signora mia, perfetto. Ora ci mettiamo in piedi e possiamo cominciare la nostra lezione di corso preparato ispirata alla filosofia orientale. Ecco, ascoltate la musica, immaginate di essere in un bosco, siamo in un bosco, ci sono gli alberi, cioè il verde degli alberi. Noi ci sentiamo pienamente ecco, intrise di questa natura e a un certo punto vediamo degli uccellini che si avvicinano a noi e noi non vedevamo l'ora che qualcuno si avvicinasse a noi e gli uccellini si avvicinano a noi e noi felici li accogliamo, li accogliamo e cominciamo a giocare con loro perché ci sentiamo in piena armonia con la natura che ci circonda. Cominciamo a giocare, a giocare con loro, con tutti gli uccellini che ci stanno intorno e ci sentiamo pienamente felici, sentiamo una felicità dentro il nostro cuore con questi uccellini e siamo sempre più dolci con questi uccellini e ci giochiamo lentamente piano piano, piano piano tanto da sentirci a un certo punto noi stesse uccellini siamo dei volatili. Immaginiamo di essere dei volatili e di cominciare a svolazzare qua e là con questi uccellini cominciamo a sentirci pienamente immerse in questa natura che ci circonda e pienamente ecco in armonia con la natura noi amiamo tutta questa natura che ci circonda ci sentiamo in piena pace con la natura in piena pace con l'universo in piena pace con il cosmo ecco benissimo i nostri muscoli si sentono pienamente rilassati anche il bambino che abbiamo nel grembo percepisce il nostro stato di tranquillità bene ora potete assumere la posizione che volete sedute sdraiate vedete un po' perché la seconda attività che vi propongo questa sera è quella di ricordare e di assumere esattamente la posizione del concepimento esatto è la posizione del concepimento e cercate di riassumerla nei minimi dettagli perché questa posizione farà sì che voi riusciate ad entrare in pieno contatto e in piena sinergia con il bambino che avete nel grembo cercate di ricordare pertanto esattamente tutto l'ambiente che era intorno a voi e di ricordare soprattutto in tutti i dettagli la posizione in cui eravate al momento in cui avete concepito il vostro bambino ecco ricordate come eravate insieme al vostro compagno tutti i momenti i momenti più dolci ecco i momenti ecco più passionali cercate di conquistare soprattutto ecco quella comodità fisica e quella grazia spirituale ecco quello è proprio il vostro stato ed è esattamente quello che avete qui ed ora complimenti al marito signora stia tranquilla signora se i suoi muscoli sono rilassati se i suoi muscoli sono rilassati lei ricorderà esattamente la posizione in cui era se ha bisogno di stendersi veda un po' lei cerchi di concentrarsi magari sull'ambiente ecco se avevate acceso magari delle candele insieme al vostro compagno se era un ambiente caldo ed accogliente se era soprattutto un ambiente in cui lei poteva esprimere tutta la sua femminilità e la sua sensualità ecco cerchi di ricordare esattamente in ogni dettaglio perché questo è importante la femminilità e la sensualità e la grazia di cui lei era piena in quel momento era esattamente quella che aveva allora e quella che qui ed ora ecco il suo compagno in quel momento ha capito esattamente questa sua grazia in questa sua spiritualità quasi intellettuale fisica spirituale ecco se riassumete in un fermo immagine quella posizione soltanto la posizione ecco vi dico una cosa importante perché il bambino è proprio in questo momento che fissa l'atto d'amore di mamma e papà per non dimenticarsene mai più signori e questo è un applauso fortissimo per le nostre gestanti questo momento importante nella loro gravidanza ecco l'ultima attività che vi propongo e che ovviamente faccio vedere anche al nostro pubblico di questa sera è una ancora che ha a che fare con la natura e con un elemento naturale questa volta pensiamo all'acqua vedete l'acqua è simbolo di energia riflette i sentimenti istintivi è per questo che io vi chiedo di lasciarvi andare di assecondare i vostri istinti nei confronti dell'acqua perché sapete l'acqua oltre a simbolo di energia è anche simbolo di quiete ma sì proprio di quiete ed è questo che voi dovete cogliere in questa attività che vi propongo in questo momento cominciate ad avvicinarvi a questa sorgente con molta dolcezza come se voi non conosceste ancora questo elemento acqua cominciate con molta dolcezza piano piano vi avvicinate e poi piano piano vi scostate perché con molta timidenza quasi no? non la conoscete ancora l'acqua ma voi entrate in confidenza con l'acqua la toccate la garezzate le annusate le sentite l'odore e poi vi lasciate cullare lentamente lentamente siete voi a vincere su questo elemento acqua a voi a vincere signora lei mi aveva chiesto il parto in acqua è vero? troveremo il bambino in Albania signora sia tranquilla questa è l'ultima attività della giornata capisco che è molto pesante immagini una cosa immagini una sorgente d'acqua davanti a sé e una sorgente d'acqua lei vede la trasparenza di quest'acqua la limpidezza di quest'acqua la freschezza e a un certo punto lei decide di abbeverarsi a questa sorgente ma sa proprio si lascia andare quasi in maniera primordiale lei comincia ad abbeverarsi a questa sorgente tanto da sentirsi a un certo punto piena d'acqua siamo piene d'acqua sentiamo l'acqua che scende l'acqua che scorre l'acqua che scroscia e si sono ronde le acque o meno o meno se mi show su non c'è un problema allora mi salutate vergine no non hai capito com'è ti salutiamo vergine no 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 io canto mi salutate vergine perché io moro moro questo dolore questa cosa sempre la signorina senti la puoi vedere sempre così allora senti com'are mia vuoi che ti dico una cosa così forse te menti l'anima in pace ecco tu questa cosa no quando soprattutto vieni qua alla chiesa tu questa cosa la devi vedere come un regalo un dono che gli ha fatto il signore è possibile che ancora non la capirà e qui se la tengo ancora incartata no com'are per favore anche perché vuoi che ti dico una cosa no proprio no perché stiamo solamente noi tre non c'è c'è il saggio cacciando le cose sante c'è qua i andanti a portacuti e poi ti dico una cosa proprio perché siamo noi tre non è poi quella gran cosa sai basta stare sì è vero com'are ci fai proprio l'abitudine è un'abitudine come che so quando ti alzi la mattina che fai prima di tutto no fai colazione con il latte è un'abitudine sì ma io un biscotto non l'ho mai stupato però per favore mamma mia ti auguro di aver servito l'abitudine ma io la colazione con il latte lo faccio per favore per favore preghiamo preghiamo anima mia torna a casa tua ti aspetterò dovresti odiare queste mura anima mia nella stanza tua c'è ancora il letto come l'hai lasciato tu e con Mari vi devo dire una cosa che è successo con Mari ieri mio marito mi ha detto che ha bisogno dei suoi spazi ma fine pure l'uncio mio mi ha visto il pianerottolo mi fa allora io il mio lo lascio andare dove vuole come tanto a dieci ma c'è la catena preghiamo il signore disse prendete e bevetene tutti tanto stasera guido io e che guido sono già tre settimane che mi è scaduta la patente mi è scaduta scaduta e tu non te la mangiare no mo si scusate si va bene guarda senti tu nemmeno l'hai presa più la patente lasciami stare che da quando hanno messo sta patente a punti non riesco mai a finire la raccolta insomma io devo andare in campagna chi mi porta mi porti tu bella signora no io non ti posso portare proprio da nessuna parte perché a me la patente me l'hanno ritirata stavo venendo dalla Svizzera a fare le ferie mi hanno visto due carabinieri qua all'Italia e me l'hanno ritirata eh sì perché mi hanno detto signora detto uno un carabiniere lei ci deve gonfiare il palloncino no ho detto va bene dico il palloncino ve lo gonfio ma ci ha scioccati da parte che sta a me scoppia la papu mi ha fatto bene con mare che poi questi carabinieri certe volte li fanno pure girare un po' con la vista ma guarda forse più si pensano che hanno la divisa e più si sentono importanti vedi l'altro giorno stavano inseguendo dei ragazzini che poi se la prendono con i ragazzini pure sai che avevano forse rubato se di rubare si può parlare delle bustine così di zucchero tipo quelle quelle del pandoro brava sì da qualche barra dico qualche cosa del genere loro sono passati vicino a casa mia mi hanno visto la porta aperta mi hanno detto ma signora te le regaliamo i carabinieri mi hanno fatto l'interrogazione di sesto grado il terzo grado eh ma qui ti romperanno doppio comare io mi sembrava una cosa da niente e gli ho detto ehi niente non mi hanno dato niente muta scusa ti sei tenuta le bustine di zucchero eh bustine di zucchero quella di a mese alta che te li trovi gliel'ho regalata alla comare Antonia ma comare Antonia ieri l'ho vista e mi ha detto ma non è che per caso per caso però eh ti trovavi in giù un borsellino due euro no scusa ma tu non gli hai detto niente alla comare Antonia comare Antonia ma come andiamo e lei si tira vediamo l'odio a te o Flavio brigatore del cielo e della terra protettore degli umili e di santa Gregoraci ma l'hanno fatta santa la Gregoraci ma è tanto miracolata ma l'ha detto comare mi donna l'alleluia si it's raining men alleluia it's raining men amen alleluia qui bene maravigò oh e dai per favore sono sbagliata sono sbagliata donna mia preghiamo beati quelli che hanno fame e sede di giustizia perché saranno giustiziati ma comare ma tu sei andata voi dovete che vi è andata all'antrologo sei andata all'antrologo sì al ginecolo per mio marito all'antrologo per questo marito e mi ha detto che mio marito ce l'ha sfermato Zopidro comare io sapevo che per l'occhio pigro si benda quello sano ma non saccio se sta cosa debba essere d'aiuto non una cosa all'altra allora comare sa che devi fare benda tuo marito e fai venire qualcun altro no per piacere passa di fronte alla salute io che devo dire intanto ma la prima cosa che devo fare è andare al ginecolo per togliere la spirale ah e non la buttare sai che mi serve per le zanzare preghiamo il signore disse Lazzaro alzati e cammina e Lazzaro si alzò e camminò ma come falso invalido fu arrestato ma come falso invalido fu arrestato ma come falso invalido con mare ma tu poi non sei andata più a chiedere la grazia al santo no 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 perché non c'era il papo che non ho potuto fare il versamento come sarebbe scusa e tu paghi per le grazie chi è il santo sangue e suga è giusto è giusto con mare intorno al gloria non potuto te paro vuoi fare una cosa allora facciamo la cosa sulla lettera apostolica va bene dalla prima lettera ai corinzi non so proprio c'è sacco con mare la lettera e gliel'ho spedita a corinzi ora facciamo la creazione dal libro dei genesis in principio creò il cielo e la terra e vide che era cosa buona con polvere del suolo plasmò la donna e vide che era cosa buona infine creò l'uomo e vide che non era mosa e brava signora mia e mamma mia sempre le pilla e se teniamo una croce in casa ora si accetta un calvario un calvario ma ci temi di lo pigliano va bene va bene intorno al gloria va bene ma questo è scema proprio guarda la papà li vieni ma che gloria è ma che gloria è che gloria è no che non fatevi un applauso ma possibile caso la mente voi non sapete e aggiornati non i pochi ma passate la tanto ma questa non aveva studiato alle figlie di Maria no agli amici di Maria questa festa ma preghiamo dal pediluvio universale noi radunò sull'arca tutti gli animali della terra tutti gli animali della terra ma no non proprio tutti come non tutti intorno mancava la taranta si che allora mancava la taranta perché mancava la taranta dillo perché mancava la taranta oh mancava la taranta la taranta è venuta a mancare oh mancava la taranta oh mancava la taranta oh mancava la taranta oh mancava la taranta ieri ieri stia tanta bella ieri stia tanta bella ieri stia tia tanta bella ieri stia tanta bella a mancava la taranta portala taranta ci strada mi amo portala taranta lasciatevi con la chiacchina lasciatevi le muscoli vorranno bene sciogli chiudi l'occhio gli devi avervi ti lascia gli aperti mamma mia come si face senza la taranta certo non stava già bene per carità non era più la taranta di una volta ma era proprio la taranta ma come è successo è successo che io Laura Sira hai capito? Laura Sira passai del merpignano io sapete di scena la tarantina e ti si le erano chiule ghiangire come ghiangiane belle tranne una cali cazzai la capo portafortuna portafortuna e me portaudanta cazzai la capo pura la taranta sera 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 di giorno non li face niente sera sera era la notte della taranta e merpignano non è possibile non è possibile ci pensare ci te o con non se saccia che le cicili e tri hanno fatto fuori la taranta perché sennò io ho spicciato anche se non era più l'atalanta di una volta l'atalanta sotto allo pede sotto allo giruggere della connella sotto allo cipone quale potiglioni quindi di vino sembriano tutti la sire della taranta basta per favore non dire cose che non sono bene anzi cerchiamo di rianimarla come si rianimano la taranta complimenti perché voi siete stati bravissimi ma non funzionate vabbè potremmo dire che è stata la belen con la cia questo lo potremmo dire comunque non lo possiamo dire perché ti hanno visto che ha inciso la taranta e non si può fare con la sua vita si è proprio stonata già la taranta ma con tutto quel fumo con tutto quel fumo il fumo delle salsicce no 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 il fumo delle canne quale fumo delle canne dico come le basilici c'era ieri si era tutti i bagnoli schiena tutti così eh scusate scusate allora per ce cantane rollari rollalle non facciamo passare questo messaggio anche perché se si sape che addirittura tre fimmene ci sono la taranta non è possibile perché se no per ce si c'era la canzone quella è non è possibile cosa non si può fare anche perché dico ma perché le femmine solamente io non ho capito venivano pizzicate dalla taranta questa cosa solo le figlie non c'è stato mai un maschio io conosco l'unico maschio che si caga dalla taranta si allora l'uomo ragno comunque è vero l'uomo ragno effettivamente va bene va bene comunque non c'entra sai qua ai propri ehi ehi niente non si sveglia tocca a se faccia qualche cosa proprio dell'estremo qua